Ciao ragazzi, bentornati su Stramo Italia TV. Bene, stasera siamo con Andrea Invernizzi. Beh, direi che quasi un nuovo acquisto perché ti avevamo visto nel 2018 al maxima dove hai fatto risultati molto interessanti. E ora ritroviamo al meeting nazionale dove hai fatto risultati ancora più interessanti. Lo vedrete nelle clip che metteremo su Stramo Italia, ma intanto parlaci un po' di te, da dove sei spuntato? Io ho vissuto al destra per tanti anni, sono stato a Taiwan 11 anni, sono rientrato in Italia di recente e cercherò di dedicarmi il più possibile a regare Stramo in Italia, considerando l'ambiente, i ragazzi, veramente eccezionale. Cosa ne pensi di questo ambiente, di questo Stramo in Italia? Per la fine, hai assagurato nel 2018 poi, ancora oggi, un'ora luna che forse è l'espressione massima dello sport dello Stramo. Sì, forse la cosa che mi è rimasta di più dal 2018 è stato il divertimento. Ho gareggiato, mi sono divertito, ho trovato delle grandissime persone e onestamente non vedevo l'ora di tornare in Italia e riprovare l'esperienza. Mi sono trovato anche con Alessandro Castelli per alcuni allenamenti insieme, così che anche il mio livello sale, migliora, dato che comunque ero abituato a non venermi da solo. Certo, qui oggi hai potuto provare il lavoro in team, comunque, a squadre che non è usuale lo Stramo, lo Stramo è uno sport di singoli, ma comunque la coesione che si viene a creare in un lavoro nel genere è molto importante e l'atmosfera che c'è, credo che sia qualcosa di, potrei dire, magico. È vero. E, beh, abbiamo parlato, diciamo, un po' dell'ambiente, eccetera, ma i tuoi obiettivi personali quali sono? Nello Strongman sinceramente a me piacerebbe riuscire a staccare 400 kg, un obiettivo mio personale, e mi piacerebbe riuscire a far parte della nazionale italiana. Mi è piaciuto molto oggi questa esperienza team, è molto interessante anche la fase strategica e decisionale e mi piacerebbe ripetere l'esperienza magari in un ambiente internazionale con dei compagni di squadra di altissimo livello come sono i ragazzi qui. Bene, ti faccio una domanda non scomoda ma interessante. E se io ti dicessi che tu ieri hai staccato 400 e fai parte della nazionale, domani qual è il tuo obiettivo? Migliorarmi, sempre, non c'ho mai limite. Migliorarmi, sempre, non c'ho mai limite.